Vorrei fare un ringraziamento al nostro Presidente, Callegari. Della sua disponibilità, umanità e serenità, controllo di sua operazione, tra la quantità e le problemi. Tu, per noi, sei un barro, sei un barro! Tu, per noi, sei un barro, sei un barro, sei un barro, sei un barro, sei un nuovo centrocampista, lui mi assorbe tutti gli urti! Non vogliate mai!